Se ti dico quanto contato lui il fatto che io facessi rap nella vita questo no, perché io sono sincero non sono stato cioè non ho scoperto il rap con Eminem Con chi l'hai scoperto? Con Marra Cioè io ho scoperto Allora la verità è questa Io ero stavano andando in vacanza con i miei in macchina in Sicilia e praticamente volevo il disco di fibra ok? Gli dico a mia mamma di andarmelo a comprare all'autogrill mia mamma mi fa non c'è quello di fibra c'è quello di Marrakesh ti ho preso questo e io al tempo non lo conoscevo metto quel disco e da lì è come se mi si fosse aperto un dritto al punto il mondo ma poi parlava in una canzone mi bastavano le briciole parlava di me che stavo andando in vacanza con i miei in macchina e lì ho capito che io mi ricordo che quel giorno in macchina io cercavo di scrivere sopra le canzoni di Marra cercavo di scriverci sopra capito? scrivevo delle cose perché anche io volevo fare quella roba era troppo figa grazie a tutti 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 grazie a tutti